amore che succesi gli erano letto un coppia internet che è successo un burdello il cuore 3.000 apurati amo ma gli agenti coppia internet che t'hanno restate hanno restato per i capigli a barba curati 3.000 ma mi parla diciamo che ti amo che ti è come e mi ha appena chiamato alessandro ha detto mo ti chiamerà pre fabio stai tranquilla come sta accisa ma adesso non stiamo acciso lo giuro amo ma perché ti ha tagliato la barba i capelli io non faccio giù niente per l'occhio non ci vedo più l'occhio niente per il mio è sbarrato il coppio e l'acidina massacrata però non ci ultimo fa così la gamba massacrata tutto no ma che era la mia magna eh pare niente che non potete eh ah 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 ma lo sai di seno? lo sai che c'è un tecnico ah? ma lì l'ha fatto tutto e non? chi si loca? no vai ci ma lì ci sono si guardi l'hanno fatto tutto ma perchè l'hanno fatto tutto? tu non lo sai che va chiamalo a provare di seno ah? non lo sai vabbè dove l'ho fatto all'inizio ma non lo vuole come lo facciamo? ma ma adesso non lo sai? ah? che è? ah ci ti parliamo che ci sono ho messo i bottoni che hanno fatto tutto ho messo i bottoni che hanno fatto tutto